Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vi mostro il risultato del mio esperimento, cioè del mio ovetto che avevo lasciato dentro all'acqua perché si trasformasse in un piccolo dinosauro. Ed effettivamente, voilà! Ecco la sorpresa, il mio dinosauro è cresciuto tanto da rompere l'uovo e uscire. Guardate, è assurdo questo esperimento, meraviglioso, non ci credevo nemmeno io, devo dirvi la verità. Guardate, era uscita, sono tornata e ho trovato l'uovo spaccato e il dinosauro con la testina fuori. Assurdo ragazzi, sono proprio sbalordita da questo esperimento. In realtà non so come possa essere successo, non so bene quale sia il processo, insomma. Però ecco qui il nostro piccolo dinosauro, vedete? Con gli occhi tutto, le zampette, la coda, il dorso un po' rossiccio. Chissà, magari è un incrocio tra due dinosauri strani. Questo è il risultato, vedete? Ha rotto l'uovo completamente. Qui l'ho messo, diciamo, in un acquario più grande perché magari cresce ancora di più, non lo so in realtà, ma non credo. L'esperimento credo si fermi qui, però volevo farvelo vedere perché vi avevo promesso il risultato. Vedete che l'uovo si spacca, però è assurdo questo procedimento, è veramente incredibile. Io lo trovo un esperimento veramente carino e soprattutto vi consiglio tantissimo a questo punto la marca di questi ovetti. Growing Pets, pazzeschi ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e seguirci sempre. Ci vediamo presto, ciao!